siamo arrivati amici la domenica della santissima trinità partiamo dalla terza posizione si vola quindi non c'è due senza tre conoscete questo proverbio che vuol dire chiamo che un amico mi fa una sorpresa poi me ne fa un'altra dico basta si sarà stancato invece magari me ne fa un'altra ancora non c'è due senza tre è vero pensare che dio mi ama non solo una volta e a tempo magari determinato cioè dopo un po basta non mi ama ma se poi io sbaglio se faccio delle cose sbagliate smette di amarmi non mi fa i regali poi dice però basta adesso basta adesso li faccio a qualcun altro no c'è dio mi ama sempre dio mi ama sempre la trinità vuol dire questo che un amore che che non che non finisce mai che mi avvolge che dove mi giro c'è questo amore è bello mi giro di qua c'è c'è il padre mi giro di qua e c'è il figlio mi guardo dentro c'è lo spirito mamma mia che bello guardo verso l'altro e anche lì trovo dio dovunque mi giro sopra sotto destra sinistra più alto più basso non c'è due senza tre veniamo alla seconda posizione quando ero piccolino andavo in una gelateria che metteva non un gusto non due gusti ma tre davvero tre così era veramente per tutti i gusti eccolo così dio dio è amore per tutti i gusti non è sempre lo stesso sapore cioè dio cambia la seconda ma non è che cambia lui cambia il suo modo di amare il suo modo di amare per tutti i gusti lo sente chi ha bisogno di un padre lo sente chi ha bisogno di un fratello chi ha bisogno di un amico un amico del cuore un amico dell'anima chi si sente solo chi si sente sconfitto e chi si sente grande chi si sente piccolo chi si sente inutile per tutti i gusti per tutte le età io quando ero piccolino dio me lo immaginavo con la barba bianca che mi proteggeva un nonno adesso lo sento il mio compagno di viaggio di cammino è ringiovanito dio chissà quando sarò unziano come se forse lo sentirò come come un bambino da tenere in braccio che come io il nonno che tiene in braccio dio non lo so però è un dio per tutti i gusti è bello tu come lo senti dio diverso da ieri però è sempre lui non cambia perché dio non cambia però il suo modo di amare è per tutti i gusti diceva il mio gelataio tre balette di gelato genovese tre palline di gelato bene veniamo alla prima posizione andate dice gesù e battezzate nel nome del padre del figlio dello spirito santo o raga ma che marche sono diciamo non ci sono altro che valentino altro che dolce gabbana altro che armani e siamo battezzati in questi nomi in queste dico ma quante volte noi invece ci facciamo battezzare nelle sottomarche dell'amore cioè ci accontentiamo veramente di poco di niente del like della persona che mi vuole bene perché mi vesto come come vuole lei perché parlo come vuole lei del gruppetto di amici che mi vogliono così se sono diverso mi scartano mi lascio battezzare in esperienze si belle che però poi finiscono di esperienze belle ma che sono attaccate al mio portafoglio perché perché pago per no per andare in palestra pago per fare questo poi certo che sono battezzato cioè immerso in quelle storie in quelle esperienze certo ma vuoi mettere essere immersi battezzati appartenere a questi tre padre figlio e spirito santo siamo persone di marca noi perché siamo battezzati in questi nomi che non hanno uguali in tutto il mondo sai quanto vali perché tu non sei vestito di marca ma tu sei amato di marca se dentro fuori dalla testa i piedi ancora una volta sei tutto di marca perché sei tutto di dio era la prima posizione buona domenica della santissima trinità a tutti